Presentando questo video fotografico, che illustra i preseppi e gli addobbi a Bondone e Baitoni, un vivo ringraziamento va alle associazioni, agli enti e a tutti gli uomini e donne di buona volontà che hanno reso magico questo Natale 2020 a Bondone e a Baitoni. La mia poesia è Natale, le Nadal, spesso recitata nelle rappresentazioni natalizie dei bimbi dell'asilo, fa da contorno alla nascita di Gesù Bambino nei due paesi. Buon Natale! Buone feste! De Nadal! È Natale! Le campane di Bondone fanno din-don-dan, laggiù, lontano, le fa eco il campanone di Lodrone. In chiesa siamo tutti in raccoglimento e aspettiamo che nasca Gesù Bambino. I bambini cantano, noi preghiamo, suona la mezzanotte, è nato, dice Don Andrea. E in quel momento l'emozione ci fa capire che è nato il Signore. E nel nostro cuore promettiamo che saremo più buoni e perdoneremo. La luna è spuntata là in mezzo ai monti della cingla. Illumina il nostro paesello che è innevato e ancora più bello. E sembra che dica sono venuta anch'io a far festa al bambinello. Il cielo è pieno di stelle e noi pensiamo ai nostri cari che non ci sono più. Ma siamo sicuri che ci sono su anche loro in cielo, assieme con il bambinello, a guardar giù. Buone feste di Natale! Suona la mezzanotte, suona la mezzanotte, dice Don Andrea. E in quel menullè sento un laur in del nostro cuore che ne fa capire che è nato il Signore. E promettiamo che sarò più buoni e perdonarò. Buone feste di Natale! Buone feste! 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 Buone feste!